Che energia, un'emozione grande, grande davvero. Bene, prima di lasciare la scena, complimenti ragazzi, vengo anche domani a cantare con voi. Se mi prendete, mi ingaggiate qua. Allora, voglio condividere, non so se questo è il momento, Moreno che dici, proseguo così, perché c'è un grande amico, un grande collega che stimo tantissimo, che è Marco, Marco Zeta, degli Zeta, che lui aveva un sogno, un desiderio, no? Eccoci. Ciao. Ciao Roberta. Grazie. Grazie davvero per realizzare questo sogno. E sono felice di farlo perché, ripeto sempre la condivisione, il cantare insieme, a me piace duettare con le mie colleghe, con i colleghi, perché è così proprio una... trasmettere la nostra energia. Questa è una canzone che mi appartiene, la posso anche dire, perché quando uscii dall'orchestra italiana Borghesi, Mauro Rizzi usciva dall'orchestra italiana Bagutti, e noi abbiamo fatto questo duetto prodotto da Madeira, Tio Music e Casa Dei Sonora. Io credo che sia ancora attualissima questa canzone. Ne facciamo un pezzetto insieme, perché questo è proprio un abbraccio in musica a tutti voi, perché questa canzone ha per titolo La Nostra Musica. Grazie. Vorrei cantare insieme a te Qualche nota per scherzare Mi siedo qui, proviamo un po', un pianoforte per sognare Una canzone per ricominciare La canteremo in due a piena voce Cammineremo accanto Tenendoci la mano La nostra forza, amici, siete voi La nostra musica La nostra musica Che vibra nel cuore Qui dentro l'anima Un grande unico amore La nostra musica Che unisce la nostra gente Chi piange, ride, chi spera Di un mondo migliore La nostra musica 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 Grazie davvero, dal più profondo del cuore, perché i vostri applausi sono per noi che facciamo questo mestiere il più grande compenso che possa esistere. Vi auguro una buona vita e auguro a tutti i giovani musicisti che un domani possano godere di musica, di questo mestiere che ancora oggi a noi ci dà tanta tanta soddisfazione. Vi abbraccio, la vostra amica Roberta Capelletti, con quei soliti 2P, 2L e 2T. Avsalut Bordel, buona vita! Grazie! Grazie a te.